Perché incorporare una LLC all'interno degli Stati Uniti potrebbe essere la soluzione non ottimale per il tuo business digitale. Il motivo te lo dico tra un secondo. Ciao sono Luca Tagliallatela e tu sei sul canale DAX Planning Internazionale. Ti invito a cliccare subscribe per non perderti le novità del canale e a lasciarmi un like se ti sarà piaciuto il contenuto di questo video. Oggi parliamo di LLC che sta per Limited Liability Companies che sono uno dei veicoli societari più chiacchierato dell'intero web in qualsiasi lingua io che lavoro anche sul mercato spagnolo sul mercato anglofono ti posso assicurare che è probabilmente la parola più cercata su Google dagli imprenditori digitali perché perché c'è questa digeria questa leggenda metropolitana in parte vera in parte no adesso lo vedremo secondo cui la LLC non viene tassata mai e per nessun motivo e allora la prima idea che passa nella testa di un imprenditore digitale ma anche non digitale è quello di incorporarne una. Ebbene ci sono alcuni però ma ci sono anche tantissimi contro. Cominciamo col dire che il diritto tributario americano è estremamente complesso non è uno dei più antichi del mondo devo dire cioè ce ne sono alcuni come quello per esempio inglese che sono ben più vetusti ma è altamente complicato il codice è un casino ti assicuro che la metà basta quando vado a incorporare una società negli Stati Uniti devo allora fare attenzione alle implicazioni fiscali soprattutto quelle all'interno del mercato statunitense perché la IRS cioè l'equivalente della nostra agenzia delle entrate la vostra perché io ringraziando dio non vivo più in italia e quindi l'agenzia delle entrate italiana è molto aggressiva e le implicazioni di un business le implicazioni fiscali di un business sbagliato potrebbero spezzarti le ossa si tende ad abusare di questo mezzo ma in realtà è particolarmente complesso come ti dicevo così come ne è semplice l'incorporazione complessa e la gestione delle della difficoltà fiscale che può derivarne ci sono domande per esempio a cui potresti non trovare risposta per esempio che cos'è una US source of income il codice americano definisce una da una lista diciamo della spesa di US source of income che però non è omnicomprensiva e quindi tu potresti trovarti nella situazione in cui pur non vendendo all'interno degli Stati Uniti dovresti trovare ti potresti trovare a dover pagare perlomeno l'imposta federale che oggi 2023 è al 21 per cento dopodiché l'altro problema legato all'apertura delle LLC è il numero di company provider sparpagliato per la rete saranno perlomeno un migliaio a occhio e croce in tutte le lingue del mondo il problema di questi provider è che non ti danno nessun tipo di affidabilità devo dire 9 su 10 portano il risultato a casa ti danno l'incorporazione della società a volte ti danno anche lane number che sarebbe il business registration number che è quello che ti serve fondamentalmente per lavorare però spesso e volentieri la unica assistenza che ottieni è quella di un indiano con tutto rispetto per gli indiani in chat che probabilmente non sa o non può darti le risposte soprattutto di fiscalità che cerchi quindi quando vado incorporare una LLC devo sapere esattamente vorrei avere qualcuno che mi dia una mano dall'altro lato che se lo chiamo a telefono mi risponde questo è l'altro mio consiglio quindi se cerchiamo se troviamo un provider che costa di più e che ci dà questo tipo di servizio utilizziamolo dopodiché l'altra problematicità è quella legata all'apertura dei conti correnti sia online che offline una volta era molto più facile ma nel corso degli ultimi due anni l'incudine si è stretta le mani si sono strette particolarmente secchiato proprio un colo di bottiglia per cui ho clienti che fanno la stessa attività alcuni dei quali arrivano che non sono riusciti ad aprire il conto corrente altri ci sono riusciti poi ci andiamo a lavorare è una soluzione la troviamo però l'approccio delle banche ormai è imprevedibile e questo è l'altro motivo per cui vorresti affidarti a un professionista per l'apertura anche di un conto corrente bancario che tra l'altro è possibile ottenerlo anche multivaluta non è semplice ma è possibile ma soprattutto devi fare attenzione a quella che è la tua residenza fiscale la LLC non si sposa con qualsiasi tipo di residenza fiscale personale una cosa è se vivi a Malta una cosa se vivi in Italia una cosa è se vivi in Portogallo una cosa se vivi a Dubai una cosa se vivi in Romania eccetera 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 e le implicazioni fiscali sono altamente differenti in ciascuna della tipologia di situazioni che abbiamo appena descritto e tutte quelle che ti possono ancora venire in mente ma soprattutto la LLC non va bene per tutte le tipologie di business soprattutto per il drop shipping per l'e-commerce potresti avere dei problemi enormi con diciamo nelle gare uno Shopify payment o uno stripe quindi facciamo molta attenzione perché se il tuo modello di business è questo quindi incassare tramite il tuo store i prodotti del tuo store tramite questi strumenti e allora potresti avere delle sorprese inaspettate io sono Luca taglia la tela ti ricordo che sei su tax planning internazionale per approfondimenti su come e quando incorporare una LLC clicca il link in descrizione noi ci rivediamo nel prossimo video